Egli veglierà sui passi dei Suoi fedeli. Prima Samuele, capitolo 2, verso 9. La via è insidiosa e i nostri piedi sono malsicuri, ma l'Eterno veglierà sui nostri passi. Se rinunciamo a noi con fede obbediente, per essere i Suoi fedeli, Egli sarà il nostro guardiano. Non soltanto incaricherà i Suoi angeli di vegliare su noi, ma Egli stesso proteggerà il nostro uscire e il nostro entrare. Egli veglierà sui nostri passi per non farci cadere, così da non sporcarci le vesti, ferire le nostre anime e dare la possibilità al nemico di bestemmiare. Egli veglierà sui nostri passi per non farci vagare, così da non imboccare vicoli ciechi, percorsi folli o le vie battute dal mondo. Egli veglierà sui nostri passi, evitando che ci si gonfino i piedi per la stanchezza o che si producano vesciche per le asperità e la lunghezza del cammino. Egli veglierà sui nostri passi, impedendo ogni ferita ai piedi. Avremo scarpe di ferro e rame, così da poter camminare su spade affilate e sui micidiali serpenti, senza sanguinare né essere avvelenati. Egli benedirà i nostri piedi da ogni pericolo. Non saremo intrappolati dagli inganni di nemici astuti e maligni, con una simile promessa. Corriamo senza stancarci e camminiamo senza timore. Colui che veglia sui nostri passi lo fa sempre in modo efficace e attento.